Grazie infinite! Allora, è il momento di invitarci sul palcoscenico il primo ospite. Lui è entrato, così mi ha detto lui, poi non so se è vero, nel 1968 con la grande orchestra borghesi. Io accoglierei con un grande applauso il chitarrista storico che per 40 anni ha lavorato nell'orchestra borghesi. Signore e signori, Ezio Tozzi! Grande Ezio! Sono emozionato di essere qui, di essere stato invitato da Marco e da tutti questi grandi colleghi. Guarda che se non ci sei tu non c'è più l'orchestra borghesi, te lo dice uno che è stato tanti anni con te, te lo dico veramente di cuore. Grazie di essere intervenuti tutti quanti. Grazie. Allora, il maestro Ezio Tozzi ha scritto un brano in collaborazione con il maestro borghesi. Un waltzer per sola chitarra. Sei pronto? Perfetto, va tutto? Abbiamo fatto il cambio, arriva questo waltzer. Ezio Tozzi alla chitarra ci presenta Cielo Stellato. No? Buono Questa, più bella a tutto. Buono Questa! Buono Questa, cos'è conf Tonight! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.